salve amici sono Riccardo Affinati e oggi veramente dall'orlo della fondazione vi vorrei parlare di tante cose però vi vorrei parlare per esempio di una magnifica stilografica che è arrivata veramente una una grande bellezza in tutti i sensi ma Pinheider grande bellezza bellissima vi vorrei parlare di come pulirsi e le mani con la pietra comice in maniera rapida indolore definitiva piccole macchie di inchiostro cose ma sicuramente mi piacerebbe parlarvi di inchiostri perché io capisco e voi solo penne belle sono la grande bellezza per esempio questi questi inchiostri delta che sono particolari abbiamo i nomi mi fanno mi fanno mi fanno a fare mi affascinano nero vesuvio viola malfitano blu caprese tre tre inchiostri di cui dovremmo parlare assolutamente penne che in passato di cui in passato abbiamo già detto qualcosa assolutamente una una immaginao c3 un indian c3 sicuramente penna affascinante una mb ali egiziana veramente particolare ma io lo capisco che accidenti a voi oltre ai alle penne dice solo di penne dobbiamo parlare no gli inchiostri non li vogliamo vedere i quaderni su cosa scriviamo quaderni a quattro quadernoni bloc nodes a quattro ma della lidl un euro e 49 un euro meno di un euro e 50 sì sto aspettando anche i quaderni gli a 5 formati a 5 ma intanto con i formati a 4 quelli grandi un euro e 49 adattissimi per le nostre stilografiche allora ragazzi andiamoli a vedere alla prova e buon faber kasten a tutti buon faber kasten a tutti Allora, veniamo in pratica a vederli proprio questi blocchi a spirale che si trovano da Lidl. Il costo è veramente ottimo perché per un formato A4, quindi il doppio di un quaderno A5, 1,49 euro in questo momento è veramente un buon prodotto. Perché è un buon prodotto? Perché li abbiamo provati effettivamente, fatti in Germania anche se la Lidl in questo caso ha un legame con la Spagna, non è un caso quaderno espagnolo con linea e immagine a righe con bordo. Ma la traduzione in italiano c'è nel formato con blocco a spirale a sinistra o nel formato con blocco a spirale in alto. Allora, Lidl però questi crelando 70 grammi che ci fa capire 80 fogli, ci fa capire che effettivamente non è detto che bisogna avere un 120 per avere degli ottimi quaderni. Non è una carta patinata particolare, è una carta veramente per tutti i giorni. Però andiamola a vedere proprio alla prova dei fatti. Allora, la prova dei fatti, eccola qua. Praticamente l'abbiamo provato un po' con tutte, quindi con una stilografica Chef Imperial Tramp Vintage, con una penna MBL Heritage, con una Pinheider, la grande bellezza, l'ultima penna, un Eondi Ancetre che aveva finito proprio l'inchiostro, quindi l'abbiamo, siamo andati per intenzione alla fine, proprio perché con questo caldo anche a tenere una stilografica ferma sul tavolino si esaurisce. Poi abbiamo provato una Tombow High Press, in grado di scrivere in verticale, ovunque, una Faber-Castell Poliomatic, praticamente una matita meccanica. Abbiamo provato una Muji penna a gel, una Bic Crystal Aluminio, quindi la classica penna a sfera, Zebra Funtan Pen, qui abbiamo una stilografica useggetta. Allora, ritorniamo alla Bic con una Crista Ultrafine e poi, proprio per non farci mancare niente, il pennarello Giotto Turbo Color e il Paper Mate Permanent M15, il classico pennarello con cui si scrive sui CD, su cui no, su superfici un po' particolari, permanente. Allora, ve lo dirò subito, poi penne finline, sei pennarelli, quelli tratto clip molto fini, una Pilot V-Pen Red Ink, che praticamente è una delle classiche stilografiche useggetta. Le abbiamo provate tutte. Ma adesso andiamo a vedere la prova trasparenza, questa Ghost Phantasm, perché quello che ci interessa a noi, amanti delle stilografiche, e non solo, è vedere dietro l'effetto trasparenza. Perché, allora, ve lo devo dire, di tutti questi strumenti di scrittura utilizzati, penna sfera, penna gel, stilografiche, pennarelli, matite, chi ne ha più ne metta, uno solo ha traforato. E meno male, e meno male, non perché sia stato uno solo, ma meno male perché almeno ci ha fatto diventare, come ti posso dire, umano, questo foglio. Indovinate un po' qual è il, diciamo, l'unico tratto che è andato, ma ve lo faccio vedere. Giro la pagina, lo vedete, lo vedrete voi di fatto. Eccolo qua, vedete? Cioè, tendenzialmente hanno retto tutti, chi più, chi meno, c'è più, dopo ho premuto un po' di più, si vede più, ma l'unico che è questo qua, il pennarello per me. Me lo sarei aspettato perché, francamente, è l'unico che... Comunque, io non scriverei mai, comunque, su un quaderno, non ho un motivo, se non un motivo di... Che vi devo dire? Di urgenza, di... Eccolo qua, ve lo rigiro. Il Paper M15, effettivamente, ha bugato, giustamente. Il resto, devo essere sincero, se dobbiamo andare proprio... No, sono andato, ecco, un po' di più il pennarello, sempre un pennarello giotto, ma il resto, quello che vedete, è, diciamo, non è l'inchiostro, ma è la pressione. Perché? Perché poi, effettivamente, questa carta è molto leggera. Allora, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contra. A chi piace una penna, una... Una carta leggera, questa è adattissima. Quindi, per 1,49 euro, io credo che è il miglior blocco che potete trovare in A4. Se poi, in futuro, usciranno pure gli A5, sarebbe meglio per me, perché io uso più i quaderni, il formato quaderno A5, che non nel blocco Nodes A4. Ecco, però, è una carta che si può usare sempre, al di là del formato, ce l'avete anche con, vedete, con le righe, si può anche staccare, vedete, ha il formato E. Quindi, insomma, mi sembra un'ottima carta. C'è stata... C'era stata segnalata da Alessandro, mi pare di ricordare bene, comunque, nel gruppo del ciclo stilografico romano, era stata segnalata, e bravo chi l'ha segnalata, mi sembra Alessandro, mi pare di ricordare Alessandro, poi molti l'hanno comprata, e mi è toccato andare pure a me a vederla, e ho speso meno di 3 euro per due quadernoni. ci sta. Bella, bella, sì, sì, sì. Consigliata, promossa, perfetta per ogni tipo di soluzione, non dà problemi, ecco, l'unica, il pennellone, ma, insomma, ci mancava la pennellessa, per il resto, ricordate, però, è una carta abbastanza, tutto sommato, leggera, un 70 grammi, però un euro e 49, e però, nonostante la sua leggerezza, tiene, tiene alla grande, quindi. Grazie per le segnalazioni, e andiamo avanti così, vediamo quali sono le altre novità del mercato, degli strumenti di scrittura. Grazie per la visione! 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 Pinali stampigliato qua in corrispondenza della clip, poi ne parliamo anche, sul retro c'è quel famoso pangramma inglese che voi tutti conoscete, quello The Quick Brown Fox, insomma quella frase che avrete sentito nominare tante volte. Ecco magari io, cioè ci può stare quella frase lì, però siccome è scritto praticamente in uno stampatello minuscolo secondo me sarebbe stata una cosa molto bella realizzarlo magari con una scrittura a mano. Secondo me l'apporto della carigrafia, quella vera, è veramente notevole ed è grande quell'apporto. Purtroppo le persone che fabbricano penne non l'hanno ancora capito, poi vi farò vedere su altri video delle penne che ho personalizzato e vi renderete conto dell'enorme differenza che ci passa tra una penna personalizzata con una calligrafia a mano piuttosto che con anonymi font, ma detto questo era una considerazione personale, puramente personale. La clip è lodevole, è una clip che raffigura una penna d'oca, penso, ha proprio la forma... ricordatevi sempre che è penna d'oca non più una d'oca, no? Ci tengo a questo concetto perché si parla proprio... la penna si chiamano penne perché deriva dal fatto appunto che si parlava di penne d'oca. Le piume d'oca sono altre cose, ci si fanno i piumini, ci si fanno il giacca a vento, altri indumenti, altre cose. Gli antichi usavano la penna d'oca, ok? Ha una molla molto comoda, quindi si aggancia molto bene al taschino, insomma ha questa forma che non rovina assolutamente il tessuto, quindi la clip assolutamente lodevole. Il materiale, l'ho già detto, è veramente al top, è una resina molto molto bella, qui si vede una penna di pregio. Ecco, poi per chi ha visto il mio video di qualche giorno fa, avevo già proprio fatto vedere questa penna a grande bellezza, dicendo che personalmente non amo molto la zona di prensione libera così con il metallo. Perché? Perché l'avrei preferito più così, in continuità di resina, però quando ho fatto questa scelta penso anche stilistica e di design e anche di colore, sicuramente magari anche bello da questa dicotomia di colore, però ha un problema secondo me, che è quello che dicevo nel mio precedente video. Questa zona è completamente liscia, mentre questa zona è appunto godronata, come vi ho detto, quindi c'è una zigrinatura leggera, che io l'avrei preferita anche in questa zona, perché a quel punto avrei avuto un grip tra polpastrelli, quindi la mia mano, il mio arto e lo strumento eccezionale. In questo caso io lo sento che mi scivola un po', non ho la prensione proprio, a me piace lo strumento saldamente attaccato alle mie dita, purtroppo in questo caso non ce l'ho e secondo me in condizioni di forti temperature, tipo quelle estive, un po' la penna mi scarrella in mano, ecco questa cosa, invece se fosse stata, vedete, in questa zona è tutta zigrinata, anche qua non avrei avuto quel problema. Poi questa scampanatura va bene, è un po' rilevante, ma ci sta bene, la mano, cioè le dita non possono scendere più giù di quello, la penna è molto bilanciata, sto parlando senza cappuccio, quindi la penna è pesante, ma quando va in posizione, perché le penne non vanno pesate un tot a chilo come le cipolle e le patate, cioè vanno poi messe in posizione di scrittura e lì vanno valutate se hanno un bilanciamento o meno. Questa ce l'ha, direi più che buono. Il pennino è un pennino F in oro, 14 carati e ha, vedete, un pennino soft, ha quelle fenditure, vedete questi tagli, ecco anche qua. Purtroppo li fanno tutti per alleggerli i pennini, ma secondo me è un grosso sbaglio tecnico, purtroppo continuano a sbagliare chi fa penne, non ha capito bene come funzionano i pennini, ne parleremo in maniera più approfondita. Chiaramente non è un pennino calligrafico, è un pennino secondo me semielastico, perché vedete ha un molleggio, però vedete che un tratto fine, se schiaccio ingrandisce, diventa più spesso, ma non, cioè il contrasto fra questi due, tra questo e questo, non è così grande da permettermi che so un corsivo inglese. Adesso ci provo, ma non ci riesco più di tanto. Viene fuori qualcosa di lodevole, ma questa penna non nasce sicuramente con quell'intento. Infatti è il fatto che per fare quello che sto facendo sto impiegando molta forza e non ci va forza per scrivere, perché se no ci si stanca e mi fermo qua perché già mi sto stancando. Ecco, questa penna diciamo che è un cavallo di battaglia per scritture veloci, ecco, in quel caso lì, quindi scrittura da corsivo fluente e corrente, da appunti, insomma da scrittura quotidiana. Ok, quindi... Ho scritto molto molto veloce, la penna mi segue veramente bene, quindi è un piacere usarla. sono andato proprio velocissimo e quindi vedete che la penna mi segue molto bene. Posso anche tentare di fare il solito lavoro dei contrasti, però sono veramente al limite perché... però un po' si vede perché... con un pennino soft... però vedete non è così elevato il contrasto come sempre per il problema che vi dicevo, cioè l'esecuzione della calligrafia va fatta sempre con... col contrasto, ok? la calligrafia, la bellezza della calligrafia è il contrasto, è proprio l'essenza stessa della calligrafia, è proprio questo... questa cosa qua. Quindi quando non ce l'ho, purtroppo non riesco a fare calligrafia a tutti gli effetti, però faccio scrittura. Cioè avete visto una penna, mi è mancata forse qualche volta, ma sono andato veramente rapidissimo. Però un comfort di scrittura veramente... veramente notevole. Piena velocità, lei mi segue sempre, non c'è problema. Riesco a fare veramente delle cose molto molto belle, la penna mi segue veramente bene, diciamo soddisfa bene quelle che sono tutte le mie esigenze. Poi giusto per... adesso poi vi faccio vedere ancora una cosa per farvi vedere una roba relativa al contrasto, quindi la chiudo qua. Ecco, caricamento al suo converter. È stata caricata con uno dei miei inchiostri ferrogallici però adattati per le penne stilografiche. Va molto molto bene con questa penna, quindi è un po' lubrificato, un ottimo inchiostro. Quindi che dire, è una penna che mi soddisfa molto, ma appunto io sono sempre dell'idea di dire quello che mi convince, quello che mi convince, meno nelle penne. Diciamo la cosa che non mi convince molto, appunto questa cosa qua. Per il resto c'è poco da dire, è un'ottima penna, mi soddisfa e dà piacere usarla per una scrittura, però ripeto, eminentemente quotidiana, corrente. Poi qualcuno di voi potrebbe anche chiedersi relativamente a cosa ho detto prima, sul contrasto. Allora, in queste penne qua è questa cosa qua, sui pennini a punta fine è questo. Sui pennini a punta tronca ho i cosiddetti anche brod, ma io lavoro con gli italici, ecco qua ho una volgarissima gennaio 159 vecchia, vecchia serie, che mi sono fatto da me con un pennino da uno a uno, vedete, ho un po' martoriato la punta, mi sono fatto il pennino, uno può dire, ma su una punta tronca dove lo trovo il contrasto, vedete? Ecco il contrasto è qua, lo vedete, anche qua ce l'ho, il contrasto è questo, perché facendo, ecco vedete, riesco, la calligrafia è fatta di queste robe qua, cioè nel movimento che applico, nei movimenti, posso avere delle zone molto sottili e delle parti molto spesse. E questa cosa qua mi dà l'opportunità di arrivare a fare, insomma, tutte le cose che riguardano la calligrafia formale a punta tronca, quindi ecco qua, sto facendo un onciale, e tutto questo è possibile solo perché ho una punta tronca, ok? La vedete? L'ho fatta volgarmente io, ho tranciato proprio con una, mi era creduta la penna, insomma, con pochissimo, cioè non ho buttato il pennino ed è molto performante, è assolutamente performante e posso anche scriverci anche velocemente, la penna mi segue benissimo, ma su questa cosa magari vi faccio poi un altro video. Tra le altre cose, ecco scusate, sto vedendo che aveva perso un po' il fuoco. Ecco qua. Ok. Tra le altre cose questa è una penna micidiale perché mi scrive anche in posizione reverse, vedete? Diventa un po' più chiara la scrittura perché diventa un po' più arido all'alimentazione, però vedete? Sembra quasi una brush. Niente, piccola divagazione, ma era importante farvi capire che questo e questo sono la stessa cosa, contrasto. Senza contrasto non si fa calligrafia, assolutamente. Con questo, la mia diciamo piccola recensione sulla grande bellezza l'ho fatta, spero vi sia piaciuta e vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salve a tutti. Grazie a tutti. Oggi voglio vedere con voi una carta che ho acquistato qualche settimana fa da Goldpen ed è una carta della Claire Fontaine. Noi già abbiamo visto altre carte della Claire Fontaine, questa volta invece voglio vedere questa che fa parte della collezione Back to Basic, 1951 Back to Basic. Qui ci dice che è una carta da 90 grammi al metro quadro, carta avorio, quindi una carta francese, quindi una carta francese, fa parte di un set di tre fantasie per la copertina. È una carta, come abbiamo visto avoriata, come ci dice anche il... ci dicono le specifiche tecniche, è una carta satinata avoriata. Invece la copertina è un cartoncino rigido, quindi è un cartonato come copertina. Back to Basic appunto ci ricorda un po' queste fantasie vintage che ormai si trovano sempre meno, però a me piaceva proprio perché è abbastanza vintage. Come potete vedere anche l'effetto consumato sul... sulla parte più... sui rompi più scuri. Ci fa ricordare un quaderno usato, consumato e vissuto. Qui abbiamo uno spazio per poter personalizzare il quaderno anche perché non c'è una pagina dedicata, ma si parte direttamente con... Abbasso un po' la camera, si parte direttamente con la prima pagina già utilizzabile. È un quaderno da 32 fogli, quindi non è un quaderno molto grande. E la rilegatura è a filo non spillato, quindi questo ci permette sicuramente di aprirlo in modo più agevole anche in un punto qualsiasi del... del quaderno, non per forza al centro. Vedete, basta una leggera pressione che dovrebbe tenersi abbastanza aperto, non perfettamente aperto, ma... si riesce ad aprire bene. Ma ora andiamo a quello che interessa a noi. La carta è consistente, ma del resto stiamo parlando di una Claire Fonden, quindi... Una delle migliori carte occidentali per l'utilizzo con le stilografiche, almeno questo in generale, su questo quaderno... O meglio, questa collezione ancora non l'ho provata e la proviamo insieme. Utilizziamo una Leonardo per fare la prova con un extra fine, quindi un extra fino flessibile in questo caso. Non scrive... Era da un po' che non lo utilizzavo. Non... Grazie a tutti. 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 Il classico pennino medio della Aurora 88 e molto abbondante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.